Ancora un incidente sulle strade a retine ed ancora una volta una madre ed un bambino tra i feriti. Uno scontro frontale tra due auto è infatti avvenuto nel primo pomeriggio a Vitiano, periferia a retina. Nell'impatto tre persone sono rimaste ferite, tra cui appunto una bambina di 9 anni e la madre, una 43enne, entra a Mediarezzo. La piccola è stata trasportata con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale pediatrico Maier per un trauma addominale. La madre è sempre in codice rosso a Careggi. Nello schianto è rimasta ferita anche una 29enne di Pesaro Urbino, trasportata in codice giallo al San Donato. Un altro incidente è dunque avvenuto solamente a poche ore di distanza dal tragico schianto in cui aveva perso la vita un bambino di 4 anni. Lo scontro fatale era avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì nella zona industriale di Castiglion-Fibocchi. Un frontale tra un camion e un'auto con aborto madre e figlio. Le condizioni del bambino c'erano state riferite da subito come gravi, sia dai passanti che confermato dai sanitari. E quindi è stato quello su cui sono stati rivolti i primi soccorsi, ovviamente. Avevamo attivato in contemporanea i primi mezzi anche l'elisoccorso. Purtroppo le condizioni del bambino gravi da subito non sono mai migliorate, non hanno dato segni di miglioramento. Quindi è stata fatta una stabilizzazione qui in ospedale come sosta tecnica appunto in attesa dell'elicottero e poi il viaggio veloce verso il Maier dove purtroppo, come ci hanno riferito, appena arrivato in pronto soccorso ha fatto un arresto cardiaco e non ha risposto alle manovre rianimatorie.